Tanti visitatori in città per le luci d'artista in alcune zone non sono mancati assembramenti. Di fatto ieri è andata in scena la prima del percorso delle luminarie con una città senza pioggia. Sicuramente il bel tempo, seppur con temperature rigide, ha portato in strada un gran numero di persone, ma anche di auto con parcheggi pieni e traffico sostenuto ed un cospico numero di bus turistici in sosta. E come di solito accade, come da copione, c'è chi finalmente apprezza l'evento che riporta una sorta di normalità sia sul fronte commerciale che turistico, ma allo stesso tempo in un periodo dove i contagi per il Covid continuano a salire, non mancano critiche per gli assembramenti che si sono creati soprattutto nella zona dei mercanti, come alla Villa Comunale e il succorso Vittorio Emanuele. Il parcheggio di Piazza della Libertà, diversamente dalle previsioni e dalle attese, non ha accolto tante auto. Indice puntato verso il piano sicurezza, studiato e rivisto più volte, ma stamani il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli, in occasione della conferenza stampa di presentazione della traviata di Giuseppe Verdi in programma mercoledì al Massimo Cittadino, ha replicato ai giornalisti commentando il weekend appena trascorso come un fine settimana senza grosse difficoltà. C'è una grande affluenza di turisti, ma mi sembra che le cose siano tranquillamente sotto controllo da parte della ditta che si è appaltato il piano di sicurezza. Mi dicono, non ho avuto modo di riscontrare, che gira anche qualche fake con fotografie ritoccate, ma credo che la situazione sia assolutamente sotto controllo. Bisogna naturalmente che i tanti visitatori, i nostri concittadini, abbiano contezza di un dato, che si torna ad una sorta di normalità vigilata e ciascuno deve fare il suo compito, deve svolgere il proprio compito. Nel senso che vanno tenute le mascherine, bisogna rispettare, evitare gli assembramenti, lavarsi spesso le mani, tutte le cose che noi sappiamo e che decliniamo ormai da tanti mesi a questa parte. E credo che questo contribuirà, una volta che tutti si saranno vaccinati, invito tutti a fare le terze dosi, una volta che tutti si saranno vaccinati a recuperare un altro passo verso la normalità definitiva. Ho parlato con il presidente di Salerno Mobilità, invitandolo ad una dislocazione di cartellonistica adeguata e faremo dei lanci stampa, anzi vi prego di aiutarci da questo punto di vista, per dire che c'è questo parcheggio a disposizione dei nostri cittadini e di tanti visitatori che ci onorano con la loro presenza. I prezzi sono quelli che conoscete, sono quelli standard che troviamo in tutte le città d'Italia e credo che quindi sia utile utilizzare questa struttura che abbiamo messo a disposizione. E questa mattina, mentre nel foyer del teatro veniva presentato dal casta e dal segretario artistico Antonio Marzullo lo spettacolo della Traviata, un nuovo allestimento del Massimo Cittadino, fuori dal coro giungeva la richiesta da parte dei rappresentanti del mondo della danza salernitana, tra direttori di scuole, docenti e danzatori e danzatrici professioniste, di sapere perché ormai da diversi anni non vengono fatte audizioni per il corpo di ballo. Abbiamo appreso con soddisfazione il cambio di direzione per ciò che riguarda la scelta del coreografo e ci auguriamo, scrivono in una nota, che si continui in tal senso, ma ribadiamo l'assoluta necessità di bandire prima di subito l'audizione che darebbe solo in questo caso avvio al corpo di ballo del Teatro Verdi attualmente inesistente. Dito il direttore Marzullo che mi ha detto di aver dato la sua totale disponibilità agli incontri, non si sono messi d'accordo per motivi proprio di disponibilità non nostra ma dei corpi di ballo. Mi pare che Marzullo abbia invitato i nostri interlocutori a mettersi d'accordo e a chiedere un'audizione. Noi siamo pronti e disponibilissimi a fare questa audizione e creare nei limiti del possibile e nel futuro, come mi auguro, un corpo di ballo così come abbiamo fatto con l'orchestra e il coro. Grazie a tutti.